Allora mi stavo aggiornando della classifica del campionato di Serie A e mi stavo raccontando quello che stavo facendo, Juventus 75, attenzione, Lazio 68, Atalanta 66 e Inter 65. Attenzione, però, per quanto riguarda la Roma, allora, in quinto posto, vi dicevo, troviamo, ma Roma mi sembra, sì, Roma, con i suoi 51 punti. Con gli stessi punti abbiamo il Napoli. E ci sarà anche il Milan. Il Milan resta nel settimo posto con 49 punti. Poi andiamo qui giù con la classifica. Ci sono Sassuolo, Verona e Polonia. Allora. Allora. Sì, è meglio così ci troviamo bene. Ecco qua. Milano dicevamo 49 punti. Troviamo Sassuolo e Verona 43. punti a testa e mi ricordo che avevo anche Bologna. con 41 punti a testa. Con 41 mi sembra. Andiamo a leggere bene. Sì, poi c'è il Cagliari rimane a 40 punti. ormai Cagliari con 40 punti può considerarsi salvo. Poi abbiamo Parma 39, Fiorentina e Udinese 35. Fiorentina 35. insieme a Udinese. Allora. e Udinese. ma attenzione Torino 34. Torino 34. Torino 34. e Sartoria 32. e Sartoria 32. Allora il Lecce rimane fermo a 28. Genua rimane a 27. Brescia a 21. e Sartoria 19. Allora. Quindi ecco solo una classifica aggiornata. Juventus 75. Lazio 68. Atalanta 66. Inter 65. Attenzione. Roma 50. Roma e Napoli 52 punti. Milan 49. Sassuolo e Napoli 43. Bologna 41. Cagliari 40. Parma 49. Torino 39. Fiorentina e Udinese 35. Torino 34. Sartoria 32. Lecce 28. Genova 27. Brescia 26. e 21. Spal 19 punti. Io vi ringrazio per questi pochi minuti concessi. Vi lascio, come sempre, l'invito. un like se vi è piaciuto questo video. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale Relato Intervista. Lo trovate sicuramente. Se tutto va bene ci ritroveremo alla prossima. Ciao.